Onoranze funebri e kivi. Dalle immagini della radiografia sembrerebbe che tu sia praticamente senza cervello. Cazzo! Che succede? Io non ho un cervello! Un completo? Ce l'hai? E questo chi è? L'uomo senza cervello. Risto e zucca vuota ripuliranno tutto. Ci sono almeno 20.000 euro di conti da pagare a mio nome! C'è qualcosa di sbagliato in questo mondo, se in tanti si riducono così. Tieni il culo sulla sedia o sparo! La morte è un problema dei vivi. C'è qualcosa di via? Dove sono non...